Singolare protesta di un abitante di Via del Centenario che ha esposto dei cartelli contro le deiezioni dei cani. Si rilanciano due problemi, l'inciviltà della gente e soprattutto i controlli che sono letteralmente zero. Ci tengo a precisare che effettivamente mancano dei controlli assidui e dei controlli mirati perché io assisto tutti i giorni a uno spettacolo indecente. La gente cammina con i cani e lascia che la loro cacca di questi cani rimanga lì sui marciapiedi. Signori miei, non è possibile continuare in questo stato perché qui dietro abbiamo in 200 metri macacche infinite e tutte le volte che i poveri cittadini passano sui marciapiedi devono fare gli slalom per non portarsi a casa questi regalini che i padroni dei cani lasciano lì per terra. Basta con questo spettacolo indegno che battipaglia, non può assolutamente più tollerare. Facciamo qualche cosa e mettiamo rimedio a queste indecenze proprio di che la gente è incivile. Facciamo qualche cosa.